Nessuno la vedrà mai, è terribilmente costosa e nessuno saprà mai chi è di seta, ma lo saprò io e camminerò in modo diverso. È stata la divina Greta Garbo, icona sexy per più di una generazione, a ribadire già negli anni trenta quale fosse la più infallibile arma di seduzione femminile, ovvero la lingerie. Gépier, Bustier, Reggi Calze e Baby Doll, un plotone di infimi alleati divenuti nei decenni non solo capi dalle rinunciabili funzionalità, ma veri e propri abiti da indossare, esibire e sfoggiare a seconda delle mode del momento. Ma se negli ultimi decenni le tendenze del settore hanno portato alla ribalta una biancheria sempre più minimal o quasi inesistente, anche a scapito di comfort e benessere, oggi stilisti e designer lanciano sul mercato reggiseri, top, canottiere, slip e sottovesti rigorosamente confortevoli, preziosi e sempre più spesso pubblicizzati da celebri super top. Come gli angeli dalla prorompente e inconfondibile bellezza firmata a Victoria's Secret. La sfilata del marchio americano, uno degli eventi più attesi della stagione, a distanza di anni è ancora oggi in grado di incollare al piccolo schermo milioni di spettatori. Il prossimo evento con le supermodelle in lingerie è previsto per il 2 dicembre, per la prima volta all'ombra del Big Bang. Si affida alla sensualità dell'attrice Blanca Suarez, il marchio italiano Intimissimi, che per l'autunno-inverno 2014 realizza una collezione di underwear attenta al comfort quotidiano, ma anche a valorizzare il décolleté, come il reggiseno imbottito super push-up Gioia, in microfibra, senza ferretto e con spalline regolabili. È il sex appeal dell'attrice spagnola Penélope Cruz a interpretare e dirigere il nuovo cortometraggio firmato a Jean Provocateur, brand anglosassone che per la stagione fredda mette a segno un intimo che strizza l'occhio agli anni 70, acceso da vibranti stampe floreali e tonalità blu e rosa shocking. Body impreziositi da pizzo, leggings dai motivi geometrici e culotte di gusto retro per il marchio Walford, che per l'inverno punta su una linea di morbida maglieria da esibire fuori o tra le mura domestiche. Gli scatti della nuova campagna sono stati realizzati dall'obiettivo di Mario Testino, tra i più sensibili interpreti di bellezza e seduzione.